Ho speso una giornata intera a cercarti anche di sfuggita. Ho camminato verso la porta, l'ho aperto. Il mondo fuori era vuoto, senza di te, senza un qualcosa di tuo. La gente spende ore della sua vita per fare qualcosa, ma non per essere felice. Potrei cercarti sulla vetta dell'Himalaya, a Cuba, o a perdermi nel deserto del Sahara, restare per interi giorni disidratato, che ha il solo pensiero di te o le forze per andare avanti.